ed ecco tra poco che adesso partirà anche questo treno regionale per bari centrale sono tornato a trani eccolo che parte vai e vai e va a bari centrale stesso posto dove ho ripreso stamattina il frecciargento che sfrecciava e 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